Una piattaforma digitale per rilanciare il turismo interno siciliano dopo il coronavirus. La proroga fino al 3 maggio delle misure restrittive per il contenimento dell'emergenza da Covid-19 stabilita dal decreto del 10 marzo firmata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma la mancata celebrazione delle festività pasquali. Una decisione peraltro già annunciata dal Vaticano e già verso la fine di marzo si era pronunciato in tal senso, dichiarando che ci sarebbero state delle variazioni rispetto alla scansione tradizionale dei riti pasquali, accomunate dall'assenza di pubblico. Lo afferma il Presidente Nicola Scardina di Trolley Caesery Think Tank del turismo esperienziale. In Italia il segmento del turismo vale in totale 146 miliardi di euro, una cifra pari al 12% del PIL, generata da una filiera di 216 mila esercizi ricettivi e 12 mila agenzie di viaggio. La proliferazione del coronavirus ha spinto diversi governi, dall'Irlanda a Israele, a includere l'Italia tra i paesi sconsigliati per le visite di piacere e le trasferte di lavoro non strettamente consigliate. I risultati si stanno già facendo sentire con la proiezione di un trocollo senza precedenti nella stagione pasquale. Trolley Caesery Think Tank del turismo esperienziale, in linea con tali premesse, prossimamente presenterà una piattaforma digitale dove è possibile visionare e acquistare pacchetti turistici prenotando viaggi in Sicilia e dove si possono condividere le proprie esperienze di viaggio.